Quindi voglio particolarmente bene a queste menzoni perché diventano quasi delle persone in particolare questa donna non è mai esistita però per me si è sempre chiamata Miriam On my knees, on the ground Anonymous, in my own hotel Practicing faith Cause the sign on the street Since tonight is the dead part of the story I'm in On my mind Is it over now? On my mind There is near Yeah There is near Grazie a tutti 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 Grazie a tutti